L'importanza dello strumento militare come mezzo per mantenere la pace. E' questo il senso di Potere Militare e Arte della Guerra, presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino. Il volume di Filippo Andreatta, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bologna, ripercorre 2000 anni di storia per far capire ai lettori come la guerra sia una costante dell'umanità. Durante l'incontro è intervenuto anche Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, che ha parlato dei conflitti attuali, puntando il dito contro l'Occidente. Ricordiamoci che la genesi di questa insorgenza musulmana, dell'estremismo musulmano, l'abbiamo innescata noi. L'hanno innescata alcune volte che siamo presi e stati presi per un vista. Ma l'attenzione del pubblico è stata tutta per Enrico Letta, che ha parlato dello strumento militare come organo fondamentale nei momenti di crisi di una nazione. Quanto una buona ed efficiente e ben focalizzata e finalizzata organizzazione dello strumento militare serve a un Paese a sostituire, serve in funzione sostitutiva quando il Paese, nella sua organizzazione statuale normale, tracolla. L'ex Premier ha poi sottolineato l'importanza delle missioni militari italiane per rivalutare l'immagine del nostro Paese agli occhi di tutto il mondo. Io sono testimone di aver visto, toccato con mano, sentito il livello di apprezzamento e l'immagine positiva che tutto ciò ha dato nel mondo e che, dicevo, sostitutivo, perché poi l'Italia invece, in molti di questi vent'anni, ha vissuto momenti in cui l'immagine che davamo non era entusiasmante al resto del mondo. E grazie a questo rovesciamento, mi verrebbe da dire, lo strumento militare, usato sempre per fini di portare alla pace, ha finito per essere invece una grande bandiera positiva per il nostro Paese. È una cosa di cui dobbiamo essere consapevoli. In chiusura, una riflessione sull'Europa e su come dovrà comportarsi per stare al passo con le altre grandi realtà mondiali. Sendo convinto che l'Europa che fa fatica oggi sia un male, perché noi abbiamo bisogno di un'Europa invece che funzioni, funzioni bene, perché solo l'Europa è quel luogo che ci consentirà nel futuro di far sì che i valori europei siano forti nel mondo e non siamo invece semplicemente marginali rispetto ai grandi India, Cina, Stati Uniti che nell'arco di 10-20 anni si siederanno attorno a tavola e se noi saremo uniti ci sederemo anche noi con loro, se non saremo uniti semplicemente non ci sederemo, sentiremo quali sono le regole che hanno deciso e decideremo di applicarle o di non applicarle.